buona giornata amici da massimo foghetti e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv con la quale iniziamo insieme la giornata dunque ben alzati e se fate colazione dunque cominciamo così a dare un'occhiata anche ai giornali oggi vediamo che con l'almanacco del giorno si festeggia i santi si festeggiano i santi faustino e giovita sono due fratelli furono dei martiri che furono uccisi sotto la persecuzione dell'imperatore adriano quello che costruì la sua grande tomba che poi divenne Castel Sant'Angelo a Roma erano fratelli originari di Brescia furono condannati a essere sbranati nel circo dalle belve ma queste ultime una volta che si erano avvicinate si ammanzirono per cui i due fratelli furono tratti vivi dall'anfiteatro e quindi furono uccisi con la spada furono decapitati appunto perché non riuscirono a farli morire dentro lo spettacolo dell'anfiteatro santi faustino e giovita va bene dopo che abbiamo festeggiato ieri san valentino la festa degli innamorati oggi festeggiamo la festa dei single perché san faustino è proprio il protettore delle persone che non hanno al momento delle relazioni amorose i single dunque auguri anche a loro le previsioni del tempo che tempo fa il tempo si mantiene buono su tutta la regione Marche vediamo il sole splendere su tutto il territorio regionale tempo stabile e ben soleggiato temperature minime contenute a valle le massime a salire hanno fino ai 17 gradi le minime ai 4 gradi 20 da nord ovest moderati lungo le coste nell'interno con una tensione debole a da est nord est il mare continua a essere mosso e allora diamo un'occhiata subito ai giornali aprire e aprendo il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che ieri l'amministrazione comunale fanese ha tenuto una conferenza stampa per annunciare insieme all'aset l'azienda a cui il comune ha dato in ha dato in concessione dei servizi come il servizio della raccolta dei rifiuti il servizio idrico e tanti altri ebbene abbiamo delle provvidenze dei contributi a favore delle famiglie fragili e di quelle persone che non riescono a causa della crisi ad arrivare alla fine del mese fondo crisi aset stanzia 290 mila euro per aiuti sulle bollette di acqua e rifiuti contributi 2023 qui sono i contributi previsti per l'anno in corso per le famiglie in difficoltà economiche ci sarà anche un bando del comune ovviamente devono essere i servizi sociali a certificare lo stato di necessità di queste famiglie ma gli aiuti ci sono e quindi chi si trova veramente in difficoltà può cantare sull'aiuto sia dell'azienda che dell'amministrazione comunale nello specifico il fondo sociale per le famiglie in carico ai servizi sociali per il pagamento delle bollette dell'acqua ammonta a 97 mila euro mentre le risorse messe a disposizione per la tassa sui rifiuti ammonta a 35 mila euro poi ci sono altri 157 mila euro destinati a sostenere il pagamento sempre dell'Atari però tramite un bando che sarà da emanare nei prossimi giorni quindi abbiamo delle scelte che farà i servizi sociali a livello proprio di situazioni che si presentano caso per caso e poi abbiamo un bando per tutti coloro che hanno dei parametri che si riferiscono all'ISEE e che quindi possono usufruire di questi aiuti messi a disposizione dalle istituzioni. E poi vediamo come per quanto riguarda la variante di Gimarra ovvero il completamento degli interquartieri c'è un passo favorevole verso l'inizio dei lavori ovvero la Regione ha aderito all'accordo di programma insieme a provincia e amministrazione comunale per realizzare questa variante. Una variante che ha visto un impegno finanziario di oltre 25 milioni di euro che suddivisi tra i 20 milioni della Regione e i 5 milioni erotti messi a disposizione dell'amministrazione comunale. Approvata dalla Giunta la proposta dell'accordo tra comune e provincia. All'inizio sappiamo che la Regione ovviamente non era molto favorevole all'itinerario scelto dall'amministrazione comunale ma poi quando questo ha ricevuto anche il benestare della sovrintendenza viste le osservazioni che la sovrintendenza stessa ha fatto e sono state accolte dal comune di Fano ebbene la situazione si è ricomposta. Ed ora parliamo del Nolfi, parliamo del liceo Nolfi-Apolloni e della situazione dell'ex Carducci. Scuola Green, il Nolfi raddoppia oltre 6 milioni per l'edificio Aule. Non solo il Carducci sarà demolito e poi ricostruito ma un intervento riguarda anche l'edificio Aule per oltre 6 milioni, 6 milioni messi a disposizione dalla Regione Marche. E vediamo come questo articolo risulti anche in apertura sul resto del Carlino in merito a una dichiarazione del Presidente della provincia Giuseppe Paolini che replicando ad un intervento critico che era stato rivolto appunto alla provincia temendo che 450 alunni nel momento in cui sarebbero iniziati i lavori non avrebbero trovato posto. Ebbene il Presidente Paolini ha detto non vi preoccupate, non abbiamo mai lasciato fuori gli studenti quando abbiamo ristrutturato una scuola, quindi troveremo posto anche per loro. L'importante è fare i lavori e farli al più presto. Nolfi, non lasciamo a piedi nessuno ma sistemare 450 ragazzi è un rebus ovviamente. Comunque si troverà. Demolizione dell'edificio Aule. La provincia rassicura dopo le preoccupazioni del dirigente ma non indica soluzioni. Erano le preoccupazioni espresse appunto dal dirigente del liceo Nolfi, Apolloni. E poi vediamo a fondopagina del resto del Carlino anche l'articolo che riguarda le provvidenze che Aset ha messo a disposizione per venire incontro alle esigenze delle famiglie più fragili, quelle più povere, quelle che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Ed ora parliamo anche di un incidente restadale che si è rivolto ieri in una delle strade che nonostante le rotatorie che sono state costruite continua a essere una delle più pericolose del territorio fanese perché? A causa della forte velocità. Questa volta non è colpa delle strutture viarie, della segnaletica insomma di un qualcosa di oggettivo ma è colpa di un qualcosa di soggettivo ovvero della guida non opportuna da parte dei conducenti. Spettacolare carambola di tre auto un ferito è avvenuto nella via che costeggia l'aeroporto di Fano. Carambola a tre sulla strada comunale campo d'aviazione. Ieri intorno alle 16.30 è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Croce in codice verde un 56enne fanese conducente di una Volkswagen una delle vetture coinvolte nell'incidente. Ebbene la ricostruzione dell'episodio che è stata poi realizzata dai vigili urbani evidenzia come una Volkswagen, quella appunto dove era questo conducente che poi è stato trasferito al pronto soccorso percorresse la strada del campo d'aviazione diretta dal mare verso l'entroterra e che l'altezza dell'ingresso dell'aeroporto si sia fermata al centro della careggiata per svoltare a sinistra. Ebbene questo stop ha causato un tamponamento da parte di un'altra auto, una Renault Kajar che la seguiva, che è andata appunto ad impattare sulla strada che si era fermata. Al volante una 24enne di Ancona che è rimasto inleso. La botta ha scaraventato sull'altra corsia il veicolo della Volkswagen, il veicolo di marca tedesca che si è scontrato a sua volta contro una Hyundai proveniente dalla direzione opposta. quindi una carambola di tre auto. Per fortuna le conseguenze di questo incidente non sono state gravi. Comunque i mezzi hanno riportato parecchi danni. Ed ora passiamo al problema delle barriere architettoniche. Sempre per quanto riguarda Fano il garante per la disabilità è una figura che viene richiesta insistentemente da Fratelli d'Italia. Vana la promessa elettorale, hanno dichiarato Lucia Tassi e Giuseppe Pierpaoli che costituiscono il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Una promessa che ora viene rivendicata alla Giunta fanese la quale si appresta a realizzare il piano delle barriere architettoniche, il cosiddetto PEBA, un piano che è di là da venire da diverso tempo e che dovrebbe prevedere anche la figura del garante. Una figura che già il comune di Pesaro ha istituito. E poi abbiamo anche il conseguimento della bandiera Lilla che è appunto quel contrassegno che contraddistingue quelle città che hanno così fatto un piano veramente efficace per il superamento delle barriere architettoniche. E la bandiera Lilla l'ha conseguita il comune di Senigallia. Mentre Pesaro ha il garante, il comune di Senigallia e la bandiera Lilla fanno non ha nulla. Ecco perché deve accelerare i tempi per realizzare questi due, per centrare questi due obiettivi. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Senigallia, la città degli innamorati. Nel 2022 il record di matrimoni. Ebbene nel 2022 si è stabilito una cifra superiore agli otto anni precedenti. Pensate, trionfa l'amore sulla spiaggia di Velluto. E vabbè, questa è una bella notizia. Sono state 124 le copie convolate a nozze di cui 76 con rito civile e le 48 hanno scelto il rito religioso. Un po' dappertutto il rito civile ormai supera quello religioso. Il mese più gettonato è stato il mese di settembre con 25 matrimoni. Nel 2011 i matrimoni celebrati in città sono stati 95 e nel 2020 59 in calo, soprattutto per effetto delle restrizioni dovute alla pandemia. Allora sposarsi mentre furoreggiava il Covid era un'impresa e pochi l'hanno fatto, perché poi non si poteva fare il pranzo di nozze, non si poteva fare la cerimonia. Insomma, quello del matrimonio è un giorno particolare che deve essere fatto insieme, deve essere condiviso, deve essere fatto insieme a tante altre persone e quando c'era il Covid questo non era possibile. Vediamo anche la pagina di Pesaro per quanto riguarda il Corriere Adriatico e vediamo come l'attenzione si punta sul Cavalcaferrovia che unisce la città, il Trebbio, così come si chiama a Pesaro con la zona dei Caffuccini. Per il Cavalcaferrovia la partenza è a marzo annuncia l'assessore Pozzi e si lavorerà anche di notte per cercare di accelerare i tempi e soprattutto per non creare molte difficoltà al traffico. L'assessore Pozzi ha incontrato i tecnici delle ferrovie dello Stato e la ditta appaltatrice. Sul ponte resteranno due corsie, ha detto. La viabilità sarà decisa anche in base all'avvenzamento dei lavori e quindi si cercherà di coordinare le esecuzioni di questi con la possibilità appunto di non interrompere la viabilità tra le due parti della città. Giriamo ancora la pagina e vediamo come la vicenda del Biolab, quel laboratorio per quanto riguarda la ricerca sugli animali che viene contestato da tutti i residenti di Torraccia, finisce in Parlamento. Ne ha parlato Antonio Baldelli avanzando una interrogazione. Si tratta, ha detto, di un diritto calpestato da parte del Comune di Pesaro che vende un terreno per realizzare un laboratorio con livello 3 di biosicurezza in un centro abitato, senza preoccuparsi di fornire una preventiva e adeguata informazione a chi vi risiede. Dunque è mancato questa interlocuzione preventiva, questo accordo preventivo con i residenti di cui poi si è sollevata tutta la popolazione che non ne vuole sapere di stare a contatto con un laboratorio dove si fanno delle sperimentazioni di carattere virale e quindi qualche cosa di perocoloso subodorano che ci sia. Rifiuti, 100.000 tonnellate in eccesso nelle discariche della nostra provincia. Oggi ci sarà la verifica di un piano sostenibile, quel piano che la Regione non ha approvato, quel piano che è stato realizzato dalla autorità d'ambito e che ora incontra delle difficoltà. C'è stato un incontro tecnico tra la Regione e l'Ata, la flessibilità sul periodo per il rientro e gli scarti della differenziata. In quattro anni sono triplicate le quantità di rifiuti portati dalle marche all'estero per lo più verso termovalorizzatori. Nell'incontro all'hotel Baia Flaminia, che si è svolto appunto nei giorni scorsi, il Massimo Sbriscia, il dirigente della Regione, ha comunicato che i rifiuti che hanno superato la frontiera nel 2018 erano 12.000 tonnellate e nel 2022, secondo un dato ancora provvisorio, sono arrivati a 32.000. Quindi sono cresciuti considerevolmente una situazione questa che ha indotto il dirigente ad auspicare che la politica abbia il coraggio di affrontare il tema di un termovalorizzatore anche nella nostra Regione, cosa che è un po' come un fantasma, un pauroso, che temono appunto tutti gli ambientalisti. Vediamo anche qualche altra notizia, un pochino più leggera, per quanto riguarda la cronaca, vediamo che una coppia dopo 67 anni ricelebra il loro matrimonio perché al momento in cui l'hanno fatto non hanno fatto nessuna fotografia e quindi non hanno un ricordo di quella bella giornata, ma è scattata una foto per colpa di una nevicata. Maria e Settimio, sono Maria Flamini e Settimio Caselli, si sono sposati nel febbraio del 1956, ora la cerimonia sarà ripetuta e immortalata con una bella fotografia. Ceriamo ancora la pagina e vediamo che cosa si dice ad Urbino. Una struttura per i randaggi accuditi anche sotto la neve. Sono i volontari di Calucio, quelli della discarica, che stanno realizzando questa struttura a favore dei cani abbandonati perché, pensate, non sono più idoni per la caccia e non sono nemmeno più idoni per la ricerca del tartufo e quindi vengono così abbandonati crudelmente da parte dei loro proprietari. Ebbè, è un atto veramente brutto quello che stanno facendo ed è incommiabile invece la risposta di questi volontari che si occupano dei cani abbandonati. Sul Carlino abbiamo visto la prima pagina che riguardava il Nolfi e le bollette dell'acqua ed ora passiamo alla variante di Gimarra e i suoi passi avanti con la firma dell'accordo di programma attuato dalla Regione Marche. Però i 5 Stelle dicono inutile, ancora non c'è certezza dei soldi. Secondo i 5 Stelle ancora quei 20 milioni che dovrebbero essere recuperati appunto in merito al fatto che il Comune di Fano ne ha aggiunti altre 5 e quindi ha consentito al progetto di rientrare in quella sfera di investimenti che sono stati prorogati fino al 30 giugno di quest'anno. Ebbene, ancora questa certezza, perché un atto formale ancora non è stato emanato. E poi vediamo che a proposito delle generazioni che cambiano, dei negozi che cambiano, sono negozi questi tradizionali che hanno così vivacizzato la città per tanto tempo, c'è una novità. Addio allo storico negozio di mercerie sul corso di Fano. Il saluto della titolare ottantotenne ai clienti. Elisa Tinti, tramite i nipoti, ha appeso un cartello sulla saracenesca del locale, del locale di mercerie nel proprio corso, in cui spiega i motivi dell'abbandono. La signora a quella età, in questo momento, non è più in grado di gestire questa attività economica, è ricoverata in ospedale e purtroppo ha dovuto abbandonare con grande dispiacere questo negozio che ha servito generazioni di fanesi. Pensate, la merceria era stata aperta nel primissimo dopoguerra, nel 1950, o giù di lì, insomma, i nipoti sono un po' approssimativi, però, insomma, la data è quella. Dal 1950 sono passati quanti? 73 anni ormai dal, pensate, quanta attività, quanta gente è passata per acquistare un bottone, una cerniera lampo, un pezzo di stoffa, insomma, tante di quelle cose che le mercerie, di una volta, con tutti quei cassettini, avevano a disposizione dei clienti. Vediamo ancora un articolo che riguarda Marotta. Al mare, con l'automobile, da giugno si paga. Sì, a giugno si paga perché a Marotta vengono estesi, viene esteso il numero dei parcheggi blu. Dalla prossima estate, dalla ferrovia in giù, L'assessore dice, ebbè, è per il turnover, è sempre la solita ragione che si evidenzia quando si trasforma un parcheggio, magari a disco orario, a un parcheggio a pagamento. Il parcheggio a pagamento fa sì che le macchine che si mettono in sosta si moltiplicano sempre di più, perché poi pagare per molte ore, insomma, la questione non è alla portata di tutti. Ma Bonaccor si dice, vogliono far cassa, e anche questo è vero, perché poi i parcheggi a pagamento costituiscono una bella fonte di entrata per l'amministrazione comunale. Dunque, anche sulle lungomare di Marotta, dalla prossima estate, arriveranno i parcheggi a pagamento. È all'ordine del giorno della seduta consigliare di questa sera nel comune di Mondolfo. È stata convocata dal presidente del Consiglio Comunale, Serena Pennoni, per le ore 21. Ebbene, nell'ordine del giorno figura l'istituzione di aree di sosta a pagamento nel comune di Mondolfo, attualmente privo di linee blu. Nella proposta di delibera, sulla quale relazionerà l'assessore Raffaele Tinti, si legge che le finalità di interesse pubblico si individuano nella necessità di garantire una maggiore rotazione appunto ai veicoli, allo scopo di soddisfare le necessità anche di coloro che poi magari girando e girando non trovano mai posto, perché un'auto parcheggiata in uno spazio libero magari rimane anche per diversi giorni e quindi il posto viene sempre occupato. Attenzione, attenzione alle truffe. Quante volte abbiamo messo in guardia in modo particolare gli anziani di non fare entrare nessuno nella casa, specialmente gli estranei. Falso tecnico alla porta, fugge con ori e denaro. Una novantenne ha denunciato un uomo che le convince di darle i gioielli per il rischio di esplosione. Pensate, questo estraneo si era qualificato come un tecnico del acquedotto e quindi ha chiesto a questa signora di entrare nella propria abitazione per controllare la pressione dell'acqua nei tubi. E poi ha detto, guardi che c'è un pericolo di esplosione, perché ci sono dei metalli che potrebbero esplodere. Beh, insomma, adesso ragionando a ragion veduta, insomma, si capisce che è una balla, pienamente una balla, perché la pressione dell'acqua non c'entra niente con metalli che potrebbero esplodere, se non i tubi stessi. Perché questo signore cosa ha fatto? Ha detto, mi metta sul tavolo tutti i metalli che possiede, quindi anche gli ori, quindi anche i preziosi. E questi preziosi hanno fatto presto a finire nelle tasche dell'individuo. La signora si è accorta dopo che l'uomo è fuggito, che era stata vittima di un furto, ha chiamato i carabinieri, ha riconosciuto nelle foto segnalettiche la figura dell'uomo che l'ha derubata, e però il giudice non è rimasto convinto delle dichiarazioni che ha fatto la donna e quindi nell'udienza del tribunale che si è svolta appunto in questi giorni il giudice ha mandato prosciolto l'individuo che era stato appunto individuato dalla signora, quindi derubata, ma senza ottenere giustizia. Vediamo ancora la pagina di Urbino. L'Università studia i cacciatori e fa scoperte da Urbino il monitoraggio dell'attività venatoria nazionale. Calano morti e feriti. Parla Maurizio Zipponi, presidente del CNCN. L'anno appena trascorso ha visto la conferma del calo dei morti e feriti durante l'attività venatoria e anche il numero dei decessi. Ebbene, il numero dei decessi è passato da 18 nel 2017 a 15 nel 2019 a 13 nel 2021 a 11 nel 2022 e anche i feriti sono calati dai 63 del 2017 ai 53 del 2022 e quanto emerge dall'analisi fatta dalla Università di Urbino nell'ambito di uno studio sulla incidentalità dell'attività venatoria. E questo dimostra anche come la consapevolezza dei cacciatori, la prudenza, soprattutto le misure che vengono così indotte in questa attività che di per sé è abbastanza pericolosa, abbiano ottenuto un riscontro positivo. E poi vediamo una iniziativa d'arte. Lo stendardo dell'Alberti salvato dal degrado. L'opera del 1438 fu fatta per la confraternita di Sant'Antonio Abate ad Urbino. A pagare il risanamento conservativo saranno le scuderie del Quirinale. È un antico stendardo, un antico e prezioso stendardo che tornerà a raccontare la storia di Urbino ancor meglio di prima grazie appunto ad un restauro, ad un recupero che verrà fatto a breve. Si tratta della tela dipinta nel 1438 da Antonio di Guido di Giovanni Recchi noto come Antonio Alberti da Ferrara che raffigura su un lato la crocifissione e sull'altro i Santi Giacomo e Antonio Abate esposta nella Galleria Nazionale delle Marche. Qui vediamo appunto la crocifissione e qua i due Santi che fanno parte dello stendardo. Erano quegli stendardi che una volta venivano portati in processione ma sono delle vere e proprie opere d'arte che poi sono significative di uno stile pittorico che fa parte appunto di quella epoca. Siamo ormai in conclusione. Voglio leggervi qualche notizia di sport oggi vediamo come le evidenzia il resto del Carlino visse per la salvezza con la sorpresa Pontedera oggi alle 18 al Benelli ci sarà il recupero della gara rinviata per Pioggia di fronte a una delle migliori del girone ci sarà anche Fedato ebbene l'ultima volta questa partita finì in un nulla di fatto perché dopo un primo e un secondo giro insieme a due capitani Coppola ed Espec l'arbitro Ubaldi di Roma decise che al Benelli non si poteva giocare e allora ecco il recupero e ci sarà una bella partita insomma infrasettimanale che attirerà anche molti molti tifosi vediamo anche qualcosa per quanto riguarda il Fano calcio Fano si consola con i baby Roberti e Alegrucci ok il direttore sportivo Danielli dopo la sconfitta con il Roma City purtroppo una sconfitta che duole ai Granata chi non gioca con continuità si è destinto bene anche l'Under Carrà ebbene anche i giovani si fanno onore nella squadra Granata e questa è l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre alla stessa ora alle ore 7 e ora vi ringrazio per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti